ciao bimbi ma soprattutto ciao trenini aeroplanini eh sì ho chiamato anche gli aeroplanini no non ho sbagliato oggi è il giorno di intersezione per cui bimbi medi e bimbi grandi diventano goccioline e raggi di sole vi ricordate fino a dove siamo arrivati allora dovreste avere questo capolavoro qui che insieme a maddalena avete fatto la terra con tutti i semini il tronco con tanti rami e poi insieme ad arianna avete aggiunto tutte queste foglioline e oggi cosa facciamo adesso mancano i frutti li facciamo insieme dai iniziamo subito ho già tagliato la frutta a metà prendo il limone e lo coloro di giallo tutto bello giallo e lo andiamo a mettere qui schiacciamo un po ed ecco qui il nostro limone adesso laviamo un po il nostro pennello e prendiamo il verde e andiamo a fare la nostra mela io ho deciso di farla verde ma se voi volete potete farla rossa come quella di biancaneve la mettiamo di qui schiacciamo ed ecco qui anche la nostra mela puliamo sempre un po il nostro pennellino e andiamo a fare l'albicocca con la ragione vediamo un po come viene la mettiamo qui bella adesso sempre con la ragione facciamo l'arancia sapete una cosa bimbi questa metà ormai è sporca e va buttata via ma l'altra metà potete assaggiarla anzi potete proprio mangiarla tutta per gustarvi una super merenda sana adesso pulisco il mio pennellino per l'ultima volta e vado a prendere la fragolina facciamo rossa ed ecco qui io ho scelto questa frutta ma voi usate quella che volete ed io un albero un po multifrutto ecco qui il nostro capolavoro adesso però non buttatelo via mettetelo da parte perché fra un po di giorni mara aggiungerà qualcos'altro ciao bimbi a presto